Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove per lavori di miglioramento della sicurezza sul viadotto del turbone adesso ci sono rallentamenti tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. Per il ripristino di un incidente due chilometri di coda tra Montopoli Valdarno e San Mignato in direzione Firenze e rallentamenti tra San Mignato e Santa Croce sull'Arno in direzione Livorno. Si ricorda che la statale 330 è chiusa in località al Biano Magra nel comune di Aulla in provincia di Massa Carrara a causa del crollo del ponte sul fiume Magra. Il traffico è deviato con indicazioni segnalate in loco. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!